Bentornati ragazzi ancora una volta su Viaggi e Volti. Oggi ci troviamo a Ronciglione e diamo ancora una volta il benvenuto a una nostra ospite che già è stata appunto protagonista di una puntata di Viaggi e Volti, Paola Egliori, che è la padrona di casa qui nel Relais Villalina. Questa volta, come vedete, siamo all'esterno, quindi vi parleremo proprio di quello che è il valore di questo parco a livello bioenergetico e del Forest Bathing che si può praticare. Qui, diciamo, è una novità anche molto interessante in Italia perché in Giappone se ne parla già da diversi anni, ma che cos'è esattamente il Forest Bathing? Guarda, questo è un po' un miscuglio di Forest Bathing e terapia con le piante studiata da Marco Nieri, che è uno scienziato che ha misurato con un'antenna molto innovativa che si chiama Lecker le manuzioni benefiche da piante monumentali o anche dall'allenamento di piante tra di loro. Quindi ha individuato in questo giardino, che come vedete c'è tantissime piante centenarie, questi dieci punti di manuzioni terapeutiche dove queste piante sono, le manuzioni vengono ingigantite da queste acque profonde e rocce vulcaniche che ci sono. E praticamente ci si mette in connessione con la pianta, prima facciamo un percorso di sniping, quindi cerchiamo di naturalmente fare un'apertura a ricevere questa cosa e si cammina su questi ciotoli di fiume, aprendosi sotto le piante dei piedi, poi si va nell'acqua ghiacciata a 12 gradi di una fontana e questo aiuta una specie di pompa di energia che abbiamo dietro qui sui polpacci a mettere in moto tutto il nostro ci e la nostra energia. E ci sono una terapista che ci accompagna, ci si siede vicino a queste piante mentre si fanno dei piccoli massaggi e questo riequilibria i nostri organi che sono in sintonia con i punti crescenti. Sì, come dire, la natura come una terapia naturale, ricordiamo che tutto in questo giardino ha un valore simbolico, il giardino è stato progettato, ci dicevi all'inizio degli anni 20 dal De Vico che oltre che un architetto di giardini era un maestro rosacroce, quindi chiaramente c'è un significato metaforico, quello che state vedendo nell'illissio alle nostre spalle ecco, abbiamo anche la simbologia del serpente, quindi l'idea dell'infinito e della rigenerazione. Ci dicevi anche che personaggi illustri hanno, come dire, sostato in questa foresta, ricordiamo D'Annunzio, ricordiamo Trilussa o anche per arrivare a tempi più vicini a noi Bansky, Andy Warhol, Michel Basquiat, senti ma come mai queste piante sono state abbinate, ognuna di loro ha un organo del nostro corpo? Perché lui ha misurato l'emanazione e quando l'emanazione della pianta va in sintonia con quella dell'organo, equilibra l'organo quindi praticamente a quel punto, dopo che ti sei aperta, facendo queste cose sui ciotoli, nell'acqua, quando ti metti lì e ti siedi il forest bathing è che fa semplicemente uno scambio con questa pianta Poi ricordiamolo, ci sono anche le erbe che vengono lavorate, non so, la calendula, la camomilla, lavorate qui proprio in questa sede e che danno poi adito a tisane, a prodotti di... Sì, anche a una piccola farmacia verde, prodotti di cosmesi naturale, quindi tutto cibo naturale Sì, e poi c'è le nostre terapiste che sono molto carine, Antonia, che seguono in questi percorsi e mentre si fa questa comunione con la pianta, secondo dell'organo che hai scelto, fa dei piccoli massaggi di riflessore giga plantare che aiuta anche lì dei punti che tu puoi avere Esattamente, quindi è una immersione totale, diciamo Ogni pianta, tra l'altro, è caratterizzata non solo dalle sue caratteristiche botanico-scientifiche ma anche da quello che la caratterizza nelle leggende, nella mitologia a livello proprio di proprietà che si tramandano nel tempo quindi in realtà ci troviamo un po' a cavallo tra quella che è l'energia proprio millenaria abbiamo parlato anche di seminari di danze, sufi, abbiamo parlato di seminari di costellazioni familiari e che va in connubio con la scienza quindi diciamo un aspetto della Tuscia, perché precisiamo, siamo nell'Alto Lazio, nella Tuscia che ancora non conoscevamo Siamo qui, bene, siamo a Ronciglione, nel cuore della Tuscia etrusca Stiamo proprio facendo, tra l'altro, un tour che si chiama Undiscovered Italy Tours di Daniela Corti, che proprio mira a, come dire, valorizzare queste zone dell'Italia non solo alla Tuscia, ma non tanto conosciute non tanto conosciute, ma potenzialmente veramente ricche, interessanti dal punto di vista sia storico sia naturalistico La Tuscia pensa che l'editore di Lonely Planet ha detto che è il secondo posto più intatto al mondo perché ha tradizioni millenarie intatte, pur essendo a 40 minuti da Roma Magari noi romani non la conosciamo, poi scopriamo che i fontisten dell'Austria vengono qui a fare le feste Grace Jones, ricordate la cantante, era qui qualche tempo fa Il compleanno di... perché noi alla fine con questo Natural Relay facciamo sia delle grandi feste diciamo matrimoni, dei grandi eventi, che anche dei piccoli percorsi disintessicanti che uno può fare per una settimana, oppure abbiamo queste quattro case con ognuna la sua piscina Possiamo fare cose molto diverse, diciamo Come ci dicevi, la natura ha già tutto, quindi tante volte noi andiamo a cercare nella medicina, nell'analisi giustissimo, ovviamente la scienza per carità è intoccabile, però in realtà dovremmo sempre prima provare da quello che la natura ci dà a cercare di riequilibrare magari anche quelli che possono essere stati d'animo o tensioni del nostro corpo quindi l'ideale, lo ricordiamo sempre ai nostri video, ricontattare la natura, respirare e rientrare in sintonia essenzialmente con voi stessi Vi ringraziamo, ringraziamo la nostra ospite, ancora una volta vi invitiamo a seguirci, a iscrivervi al canale A presto per nuovi appuntamenti con Viaggi e Volti, grazie, ciao Ma che brava che sei! Velocissima, sei concisissima Io non ero